Ciao a tutti, mi chiamo Selene Biffi e sono un'imprenditrice sociale. Nel 2014 ho avuto la possibilità di frequentare il programma GSP di Singularity University grazie a una borsa di studio messa a disposizione dagli ex alunni italiani. Partecipare al GSP per me ha significato moltissimo, sia a livello personale che a livello professionale. Ho infatti avuto modo di lavorare con tantissimi ragazzi provenienti da tutto il mondo, di esplorare come le nuove tecnologie possano andare a sopperire a problemi e sfide a livello globale, ma ancora di più ho avuto la possibilità di lavorare su una causa di mio interesse, cioè quella dell'emminente uomo. Partecipare al GSP in definitiva mi ha aiutata a realizzare un sogno, quello di lanciare una start-up come BBAC che crea appunto sensori per aiutare comunità in zone di post-conflitto. Il modello di BBAC è un modello unico che si sta facendo conoscere a livello internazionale e tutto questo sicuramente non sarebbe stato possibile se non grazie proprio alla partecipazione al GSP. Mi piacerebbe moltissimo che questa opportunità possa essere data a tanti altri ragazzi italiani che magari hanno un sogno nel cassetto come ce l'avevo io, che però hanno bisogno di un piccolo aiuto per poterlo realizzare, per poterlo far diventare realtà. Vi invito quindi a contribuire nel modo in cui potete per aiutare tanti altri ragazzi italiani a risolvere i problemi che ci riguardano un po' tutti. Grazie!